cosa c'è di interessante fammi vedere che cos'è cavalluna park dal 30 maggio al 2 giugno qui vuoi andare vuoi andare dai cavalli poi che notizie ci sono vai avanti vai avanti sfoglia dai buongiorno e buon sabato allora sono lunedì 10 io insomma lì dove sto preparando il pranzo e qui c'è un festeggiato che vuole fare e vuole fare anche lui i suoi saluti aspettate eccoci qua buongiorno cos'è ti sei ammutolito adesso ti sei ammutolito chi fa tre mesi oggi il tuo primo giro di boa è questo buongiorno ecco cos'è tutto mi sembrava che di tutto serio 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 abbiamo pure gli occhiali qua con i ray ban e si hai ragione pure tu dai facci vedere pure tu buongiorno lui con i ray ray ban e io invece sono animalier c'è pure il trucco stamattina in pandan qua con con la maglietta niente aspetta attesta c'è il balcone aperto c'è qui lì fuori lo devo andare a controllare perché si mette sempre su qua il davanzale c'è il terrore che vada a prendere vie sulle tegole insomma allora che dire devo ancora fare la torta avrei dovuto già iniziarla a fare perché faccio la corsetta di frutta però niente a me la mattina insomma mi fanno uscire ragazzi tutte e due e quindi insomma già tanto se riesco a lavarmi lì e c'è pure la busta degli acquisti fatti ieri sempre per per loro adesso devo andare a lavare devo fare il cambio di stagione insomma non vi dico per me non ho trovato niente ieri volevo prendermi anche un paio di scarpe però zero zero totale c'erano solo infradito ma quelle ce l'ho io invece cercavo tipo una scarpa tipo la zeppa insomma il sandaletto da tutti i giorni ma niente e quindi questo adesso metto la pasta per me per idea così mangiamo e poi ci dedichiamo che è successo che succede ci dedichiamo a fare questa torta allora sono le due così finalmente posso mangiare anch'io così qua sono riso integrale con i ceci e il pomodoro fresco e mentre mangio sperando insomma che lui mi dia tregua mi spoglio questo qua ve l'ho fatto già vedere su instagram e niente le vi consiglio di seguirla silvia goggi su instagram è una una pediatra e si occupa di nutrizione ovviamente vegana e questo insomma il suo primo il suo primo libro credo ed è interessante perché oltre a una prima parte insomma dove ci sono delle nozioni ovviamente teoriche dove insomma ti spiega l'alimentazione il resto è corredato tutto da ricette tra l'altro semplicissime e in più ci sono anche delle delle foto io l'altro giorno aspetta che forse non la vedete ho fatto questa aspettate un attimo ce la faccio eccola qua ho fatto il formaggio di anacardi e poi abbiamo cucinato una sera con daniele abbiamo fatto invece dei bucatini che non ce l'avevo abbiamo fatto gli spaghetti cacio e pepe ovviamente tra virgolette cacio e pepe però vi giuro che era buonissimo io non credevo spesso mi capitava di vedere fatto insomma il formaggio di anacardi oggi mi cade ma a parte che è aspettata ecco vi ho appoggiato perché se no tra ma tutto non riesco neanche a parlare dicevo ho fatto questo formaggio di anacardi ma avevo un profumo di ricotta da non credere ma era buonissimo davvero buono 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 e quindi insomma niente adesso sono sono curiosa perché ci sono un sacco di ricettine carine da fare tipo questa qua ad esempio sedano com'è qua sedano irrigate al pesto di pistacchi quindi sono anche interessata curiosa di fare questa farina di ceci strapazzata al pomodoro bello quindi adesso insomma vediamo se riesco a dargli un'occhiata se riesco a fare qualche lettura e nel frattempo mangio perché mi fa fame ovviamente devo mangiare solo da un lato quindi non so quanto impiegherò ok è tardissimo perché sono sono le 4 meno 20 e io ancora devo fare questa benedetta crostata però insomma stamattina si sono messi d'accordo tutte e due chi gridava da una parte chi gridava dall'altra non vi dico adesso dormono tutte e due la sdraietta è vuota perché sta dormendo nella nella culletta che per inciso non c'entra quasi più cioè mi sembra ieri che l'avevamo portata su dalla dalla cantina lavata sistemata insomma per il suo arrivo è già arrivata quasi ora credo un altro mesetto non di più di rimballarla e conservarla comunque mi metto velocemente velocemente mi metto a fare questa questa crostata inizio da dalla crema sono scritto ho scritto qua tutti gli ingredienti poi dopo ve li inquadro così insomma se volete fate insomma stop e vi prendete qui la ricetta comunque per la crema pasticcera ci sono servono 500 ml di latte bevanda vegetale a piacere può essere soia avena credo anche quello di riso anche se io non mi piace il latte di riso 50 grammi di mazzena e 150 grammi di zucchero è l'unica cosa mio gusto personale io quando faccio la crema e utilizzo il latte di soia però aromatizzato alla vaniglia così oltre tagli un po il colore giallino che insomma visivamente più più bello e ma poi anche il sapore è più buono quindi io uso questo però è indifferente come come la si vuole fare e poi per la frolla userò quella insomma classica di di marco bianchi mi piace tantissimo è semplicissima e ok quindi ci mettiamo un'opera e insomma vediamo un attino se riesco a concluderla prima che si svegliano entrambi guardate non c'entra quasi più oddio che si sveglia meglio che me ne vado aiuto preparatevi uno due tre che ci fai sullo scivolo che ci fai sullo scivolo che ci fai qua che ci fai qua che ci fai qua il nostro willy willy cacà che ha fatto due anni hai fatto due anni sei un ragazzino adesso sei un ragazzino sei un ragazzino allora la crema è pronta ora la metto in un contenitore di vetro così insomma si raffredde nel frattempo faccio la insomma faccio la base della della crostata eccola mi ho messo pure la pellicola e questa parte qui adesso ci penso io a pulirla buono allora sto per infornare la crostata la base della crostata però prima vi voglio fare un appunto io utilizzo ve l'ho già detto prima la la ricetta quella lì di di marco bianchi che qui che dopo appunto vi farò uno screen dove il passaggio principale da fare il primissimo è quello di sciogliere lo zucchero con l'acqua e deve essere sciolto perfettamente quasi deve sembrare una sorta di di melassa è una ricetta facilissima e buonissima solo che con me ogni volta mi fa disperare ve lo dico perché se doveste provarla e la prima volta non vi esce sappiate che perché avete sbagliato qualche cosa infatti ogni volta che la faccio puntualmente le devo fare due volte adesso vi vi faccio vedere allora questa è la base che sto per per infornare questa è la prima che ho fatto e guardate è durissima vedete che non si può proprio non si può lavorare e poi l'ho rifatta la seconda qui ne è rimasto un pezzettino guardate come morbida questa vedete questa cosa mi dovrà avvenire di questa consistenza così non in questo modo ecco vedete che era proprio completamente slegata io ogni volta mi capita sempre in questo modo la prima volta che la faccio puntualmente mi era una schifezza e poi la rifaccio e viene bene quindi ecco ho voluto far vedere perché se dovesse provarla non vi spaventate ma appunto l'impasto deve essere proprio morbido vedete c'è alla fine lo stesa qui dentro con nelle mani ok basta ciarlare la metto nel forno anzi vi faccio già subito qui ve la faccio vedere un attimo ve la leggo visto che è macchiata quindi crema pasticcera 500 ml di latte di soia vaniglia o quello che preferite 500 grammi di mezzemma 150 grammi di zucchero per la frolla sono 250 grammi di farina 80 grammi di zucchero 60 ml di acqua fredda 60 ml di olio di girasole un cucchiaino di levito per doccia e la scorza di un limone ovviamente non trattato ecco quello che vi dicevo prima acqua e zucchero sciolti insieme in maniera perfetta dopodiché olio insomma e poi lavorate tutto quanto insieme ok stop andiamo che dici tu e la dobbiamo cuocere prima eh non la toccare no 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 non mettere le tue ditina malefiche qui dentro no mi stavo dimenticando una cosa importante prima di infornarla meno male dovendo appunto fare la crostata di frutta quindi dopo devo mettergli la crema a freddo bisogna infornarla con i ceci insomma dentro quindi volendo quelli che avevo conservato l'altra volta sempre a trovarli e ne ha dove me ne ha messi i ceci mi ha alzato le mani così come a dire io non ho fatto niente sì 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 eccoli qua quindi mettiamo la oh ok mettiamo la la carta forno sopra e metto i ceci la tengo un quarto d'ora e poi gli ultimi cinque minuti e la rifaccio andare senza però i ceci insomma sul fondo ok meno male che mi sono ricordata ma perché mi devi sempre mettere le dita qua nein e nein ok dai che forse riusciamo a finirla mettiamo le fragole ti piacciono le fragole? e adesso mettiamo la gelatina allora dai festeggiato ti abbiamo fatto la foto con il tuo numerino ora ti mettiamo qua e andiamo a prendere la torta aspettate c'è anche l'anguria eccola qua vediamo se mi cade a terra vediamo oddio pesa un botto ho il frigo aperto è per te eccola wow wow ma che la stai guardando si sta preparando aspetta che si è presa la sedia ma che si prende aspetta aspetta che sto cercando una macchina che fai boh non lo so comunque bene chiudi il frigo con la luce aperta eccola qua e adesso dobbiamo mettere la candelina anzi no non la mettiamo che se noi ne piange con la candelina amm amm si è di Mirko e con la torta festeggiamo anche con la molle con la perché come hanno detto alcuni di voi no alcuni tutte alcuni che sono tutte l'hanno detto tutte l'hanno detto no non siete tutte di torino si e vabbè ma lo sapevano tutte solo tu non lo sapete molle è perché si fa a Torino no molle è perché si fa per la molla antoniniana per la molla antoniniana siccome è prodotta a Torino per la molla antoniniana infatti anche adesso vabbè dillo dillo non si chiama molla no non si chiama molla e cola quindi cosa devi dire quindi ho sbagliato non conoscendo la storia ti aiuto Michela ripeti con me ripeti con me Michela avevi avuto fortuna avevi avevi avuto fortuna adesso grazie alle ragazze ripeti testuali parole Michela Michela hai ragione avevi hai ancora ragione come sempre come sempre come sempre io come sempre quindi adesso proviamo questa molecola ragazzi la prossima volta proviamo proviamo dai apri questa molecola non date ragione a lei perché altrimenti poi io devo aspettare fino al prossimo sabato la mappa per cosa hai vinto non avevamo scommesso nulla tu non hai voluto scommettere io gli ho detto scommettiamo ti faccio un regalo non ha voluto quindi ha perso perché aveva paura chi è? lui vuole la torta dai metti un ditino ah io questo ditino non mettere lì no vai assaggio tieni è arrivato pure Willy ha sentito la torta e si deve fare adesso dai apriamo questa molecola vedi molecola ma vedi che mi imbrogli voi mi imbrogli dove è? a quelli che producono la molecola a Torino cambiate il nome fate molecola è più bello si molecola chimica vai no vabbè chimica gas zucchero vai vediamo ok bevi dalla dalla mole vai che c'ha la forma a mole mi piace un sacco un sacco è buona perché è poco gassata io sono una di quelle che sgasa la Pepsi buona vediamo come assaggiare vediamo se oltre al nome che non mi piace è timone i nomi è sgassata sembra il chinotto meno amaro è vero va bene quindi noi molechino molechino va bene che qui c'è qualcuno che sta aspettando il patente eh sì lo sapete ma come la guarda mi attesa non lo vuoi mettere in dita ok di saluto quindi niente così insomma adesso noi proviamo qua e vi mando un bacio tanti baci anche qui dal festeggiato che si sta sbrodolando un po' saluta fai ciao con la mano non ti bere la mia molecola la molecola dai saluta a tutti ciao hai ragione hai ragione ma perché gli racconti che non ti vediamo un po' capire la torta poi mi dicono che ci sono cattivi buonanotte buona inizio settimana buona domenica grazie per la figuraccia che mi avete fatto fare assolutamente chiedi che lui sta iniziando con questo buonanotte ciao ciao faccio no vuole la torta mando un bacino mando un bacino niente chiusi tu 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 chiusi tu